Colpo la scorsa notte ai danni della Sala Giochi e Agenzia di Scommesse Sportive Intralot di Via Langhirano. Malviventi si sono introdotti nel locale riuscendo a forzare un ingresso sul retro. Una volta all'interno hanno preso di mira le slot machine, riuscendo a forzarle e prelevando le monetine contenute nelle singole apparecchiature destinate al gioco. Il bottino, secondo una prima stima, si aggirerebbe in alcune migliaia di euro. Gli stessi ladri hanno tentato di introdursi nel locale a fianco, la pizzeria all'angolo 2. Hanno infatti sfondato una vetrata comunicante, lì però non hanno trovato nulla e si sono presto dileguati. L'accaduto è stato denunciato ai carabinieri. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste all'esterno. Altri esercizi commerciali della zona erano stati visitati di recente dai ladri. E sempre la scorsa notte è da segnalare il blitz fallito alla sala giochi Jackpot Plus a Coduro di Fidenza. Il tentativo di entrare nel locale forzando un ingresso secondario è fallito. I titolari stamani si sono accorti della porta danneggiata e del tentativo di effrazione.